buongiorno giambattista perché siamo nella sala dei 500 a firenze che cos'è questa coppa che ha in mano questo è un trofeo premio speciale della giuria per un bellissimo documentario su pertini realizzato da stefano caretti che il nostro consulente storico e coautore della sceneggiatura da cui stiamo traendo il film con te che titolo pensi di dare abbiamo quindi due titoli uno potrebbe essere giovane pertini un altro potrebbe essere sandro pertini combattente per la libertà che tratto dal l'omonimo libro di stefano caretti complimenti giambattista grazie a te paolo